Siamo in compagnia di Alice Cerrato, laureata a dicembre 2012 al Politecnico di Torino, quindi viene da Alba in provincia di Cuneo e volevamo chiederti come mai hai deciso di partecipare a questo workshop? I motivi per cui ho deciso di partecipare sono principalmente due, innanzitutto volevo visitare Lampedusa, capire cosa sta succedendo a Lampedusa visto che l'immagine che ci viene dai media è totalmente diversa da quello che poi mi sono resa conto che è qua. E poi perché trovo che partecipare ai workshop sia utile per confrontarsi con persone che hanno fatto un percorso formativo diverso e quindi hanno un altro approccio al metodo della progettazione e trovo che ogni volta io ho partecipato a diversi workshop e ogni volta ci sono stimoli nuovi e c'è modo comunque di imparare cose nuove anche proprio dalle persone con cui si partecipa al workshop oltre ovviamente che dai tutor e dai professori. Quindi quali sono le tue considerazioni, la tua valutazione su questa esperienza? Allora, sto trovando questa esperienza molto interessante anche se ovviamente il tempo che abbiamo per lavorare è limitato quindi condensare tutte le idee che abbiamo e soprattutto trasferirle in un disegno, in un'immagine che poi sia comprensibile da tutti quelli che vedranno le tavole è comunque difficile, però l'impegno c'è e mi sto trovando molto bene con il gruppo con cui lavoro, con i professori e quindi penso che alla fine il risultato sarà buono. Grazie. 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 Grazie.